Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto, nuovo videocorso dedicato all'intelligenza artificiale, una gamma di risorse che trovate censite e in continuo aggiornamento qui sul mio canale in un'apposita rubrica Playlist. Oggi è il turno di Perplexity, una nuova risorsa che sfrutta il motore GPT4, quindi un motore con buon grado di attendibilità. Come sempre mi mantengo cauto in questa analisi. E attenzione, Perplexity è sia un sito internet, lo vediamo nella barra degli indirizzi in alto, perplexity.ai, ma è anche una estensione del browser Google Chrome. Come vedete io sono su chrome.google.com slash webstore, che è un po' il contenitore generale di Google. All'interno di questo contenitore, dove abbiamo la voce estensioni, scrivendo Perplexity, come vedete escono due risultati. Noi consideriamo il primo risultato, se notate bene c'è anche tanto di sito ufficiale, e questo genererà, non appena avremo cliccato su, aggiungi, l'icona che osservate qui in alto a destra. Eccola, questa sorta di mosaico di Forza 4, quell'icona scura e l'icona di Perplexity. Perché è una risorsa interessante ed è un cosiddetto add-on, cioè un'aggiunta al browser comoda? Perché guardate, io ho cliccato, anzi, ho aperto Wikipedia, la nostra enciclopedia libera, in lingua italiana, e ho ricercato il lemma, quindi ho digitato all'interno della piccola riga di ricerca Giuseppe Garibaldi, ottenendo la pagina, che senza dubbio alcuno è sempre da leggere e da controllare, ma nel caso di un testo particolarmente lungo, se io da subito desidero fare quello che Perplexity chiama un'azione di summarize, cioè di sommarizzare, terribile questa espressione, il testo, ecco guardate cosa io posso fare, con la pagina davanti a me, clicco sulla icona di Perplexity, si apre questo riquadro, clicchiamo sul pulsante Summarize che vedete e voilà, sintesi fatta dalla AI di tutta la pagina web a scorrimento sulla vita di Giuseppe Garibaldi. Il pulsante Summarize che vediamo presenta questa voce, this page, io clicco solo per farvi vedere, e this page significa proprio che lui sta dentro il browser lavorando soltanto qui, quindi può essere interessante per IBES, per i DSA, ma a dirla tutta, per tutti noi e per tutti i nostri ragazzi e ragazze, avere uno strumento come Perplexity quale innesco più volte a proposito di intelligenza artificiale mi avete sentito utilizzare questo termine. L'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo, lo agevola e lo ausilia in alcuni processi e come tale la dobbiamo approfondire e studiare. Vi mostro che Perplexity che sfrutta il motore GPT e avete probabilmente ancora nelle orecchie l'eco di ChatGPT, un motore performante, ecco insieme a quello offerto da Bing AI e di Google Bard di intelligenza artificiale, come vi dicevo sul sito di Perplexity possiamo anche scrivere Parlami di Andrea Cartotto, dopodiché clicchiamo tasto sinistro sulla freccia e voilà. E ovviamente, ovviamente ci sono differenti risultati in base ai differenti momenti in cui io effettuerò questa domanda. Scriverò quello che si chiama nelle risorse di intelligenza artificiale il mio prompt. Perplexity è anche dubitativo come strumento rispetto ad altri, perché se notate dice è attivo su LinkedIn dove si descrive, cioè a questa terza persona per cui in qualche misura rimanda al personaggio, all'autore che descrive se stesso. La risorsa funziona anche, ho spostato il mio simpatico faccione, da ospiti, però se notate qui dove c'è scritto Andrea Cartotto troverete la voce Sign Up Login. Vi consiglio di effettuare la registrazione gratuita mediante un account Google, che può essere Gmail personale o Google Workspace, quindi istituzionale, di modo tale che sia possibile fare che cosa? Clicco su AI Profile, attenzione bene, chi di voi guarderà fino in fondo il videocorso avrà questa informazione importante, perché se noi guardiamo le varie voci che vengono proposte, che ci vengono proposte, c'è proprio which language should the AI, lo dico in italiano use. Se trovate English il consiglio è di specificare Italian, anche perché perplexity, se io scrivo il mio testo in italiano molto probabilmente risponderà in italiano, ma perché risponda in italiano alle nostre domande o faccia il sommario in italiano, vi consiglio di andare a settare, cioè di andare a modificare questa voce. Dunque, uno strumento a mio parere interessante, sicuramente in evoluzione, ve lo consiglio, provatelo e dal vostro Andrea Cartotto appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso. Ciao!